Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi fornisco le informazioni sul decreto cura Italia. Prima cosa vi considero di iscrivervi sul mio canale così potete ricevere tutte le informazioni. O mettete mi piace, come vi considero anche di condividere questo video così i vostri amici possono avere la stessa informazione. Oggi parlerò in tre lingue, in italiano, in inglese e in cilio. Mi rivolgo libero a professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori con il contratto COCOCO, iscritti all'Inps, inoltre, lavoratori agricoli che sono attivi al 22 febbraio 2020, che non percepiscono, che non ricevono una pensione o altre forme di sussidie, quindi anche il reddito di cittadinanza. Tutte queste categorie di lavoratori possono riconosciute una somma di 600 euro. Questa somma di 600 euro non è tassata, vuol dire che l'anno prossimo, quando andrete a fare dichiarazione dei redditi, non saranno o non verranno tassate. Per poter ricevere questo aiuto dalla parte dello Stato italiano bisogna presentare una domanda all'Inps. E la domanda si può fare per una solo vota e si può fare per una solo vota e per una solo tipologia di lavoro. Che vuoi dire? Che se tu fai due lavori, che magari sei un lavoratore agricolo e c'è anche un contratto a parte come lavoratore co-co-co, puoi fare la domanda per un solo lavoro. Per presentare questa domanda vi consiglio di chiamare un CAF, di contattare un CAF, di contattare un patronato, un commercialista, che vi possano fornire informazioni come potete procedere per presentare questa domanda. Se per caso o per causa dell'emergenza sono sospesse le attività del patronato, del CAF o del commercialista, si può comunque fare questa domanda sul sito dell'Inps. E ricordatevi che questa domanda si può fare dal primo aprile in poi. Un'ultima informazione per i lavoratori agricoli. Questo anno la presentazione della domanda di disoccupazione è stata prorogata del primo primo di questo anno. Yes, you're welcome. You can subscribe to my channel so that you receive all the update. You can like my video and you can share my video so that your friend also can receive. So, as I was saying, if you work with Partita Iva, either as autonomous or as a professionalist, I mean like a professionista, or maybe you work with a contract called COCOCO, and you are written under the category called gestione separato, and you work up to 23rd of February 2020, or you work in a farm and you work at least 50 days, really 50 days with contract in farm last year, you have the right to apply for the amount of 600 euros that the government is given. This is how you go. So, if you work 50 days in a farm last year with contract, or you're working with Partita Iva as autonomous or as a professionista, or maybe you are working with a contract, COCOCO, and you work up to 23rd of February 2020, remember that the government is given money. But before you can receive this money, you must be someone who is not receiving already any pension, any other types of subsidiary, like ready to digital in answer. If you are not receiving this type of help from the government already, then you should remember that all this type of workers have the right to receive a help from the Italian government due to this emergency amount of 600 euros. Remember that this 600 euros is for the month of March. they will not tax you on this amount, which means that next year, when you go to do your declaration of the reddity, they will no apply tax on that money that they give you. Remember that to receive this help from the government, you need to apply a request to the to the to IMS. Okay. Before you can get the money you must apply to IMS that you need this help. They say that this, I mean, application can be applied once and with only one type of work. That means if you have two jobs, one with partita iva and another one with the contract in the farm. Remember that you have to choose one of these works to apply for this help. If I can advise you the best way to apply for this help is to contact a patronato, CAF or commercialist who can give you the best information on how to proceed to receive this amount of help from the government. You can apply through this CAF, patronato, commercialist, but if in case their offices are closed due to the emergency, remember that you can go to the website of IMS and you can apply it by yourself. You can apply it by yourself. Remember that you can apply for this help from first of April. From first of April, you can apply for this help. Last information. I want to inform all the people who works in the farm with a contract that this year, the period of time to apply for the disoccupation has been extended to first June 2020. I mean, first June of this year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. LookHey Luck YouTube Channel You guys in great places. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.